Per noi è un'emozione grandissima, è veramente una grande occasione, l'abbiamo cercato per mesi e finalmente siamo riusciti ad incontrarlo. Buongiorno Libro, innanzitutto grazie per essere qui con noi, siamo veramente molto molto emozionati. Quindi iniziamo subito con un argomento forte dato il suo ruolo. Sta per finire l'anno, è tempo di bilanci e di grandi domande. Qual è il dubbio che le lascia questo 2019? Si può morire di ciliegie? Quante ne devo mangiare di ciliegie per morire di ciliegie? Se mai dovessi suicidarmi io mi ammazzerei di ciliegie. E si può morire di mancanza di gatti? Bene, dunque un dubbio filosofico che si pone più come un'urgenza ambientale o come un disturbo alimentare o semplicemente una pulsione di morte. Un giorno o l'altro mi troveranno stramazzato al suolo e il coroner dirà Minchia, una crisi d'astinenza da gatti di questo livello, non l'avevo mai vista. Libro, la sua è una professione difficile, non sempre compresa, molto impegnativa. Perché nella vita ha scelto di diventare libro oltretutto parlante? Libro, a questo punto passiamo ai buoni propositi per il 2020. Abbracciamoci con i bracci, aggambiamoci con le gambe, addentiamoci, annodiamo i nostri capelli ai nostri capelli, incastriamoci le dita dei piedi. Ci dica anche qualcosa di più semplice per noi comuni mortali? Non so perché, ma sai che tu non so perché. Signor Libro, chi è la sua musa ispiratrice? Il Cocciantone. Volevo fare in modo, come diceva il Cocciantone, che tu al risveglio non mi potessi più scordare. Il futuro pare sempre più incerto. Ci dica lei come lo vede e ci lasci qualche speranza. Saremo nucleosintetizzati in un'orgia di fuoco atomico. Grazie signor Libro. A questo punto l'intervista sta per finire l'ultima domanda. Ci dica per quale motivo dovremmo comprarla, leggerla e soprattutto ascoltarla. Non so perché, ma sai che tu non sai perché. E allora, ma chérie, ma belle chérie, ma chère chérie, se non ne sappiamo perché. Perché. E allora, ma sai che tu non sai perché.